Nandina è appena stata svezzata, ha finito con il latte e adesso invece delle schifezze classiche per le mucche da latte, polveri strane, farine strane, siccome purtroppo d'inverno l'erba da brucare non ce n'è molta, ci aggiungiamo una bella balla di fieno da 500 kg quasi, che gli dovrebbe durare penso un annetto almeno, ecco il regalo di Natale per Nandina, una bellissima balla di fieno di primo taglio, non solo erba medica, un po' di tutto, Nandina all'inizio la schifava perché è secca, preferiva l'erba, ma ora si sta a imparare, meno male. a proposito è tornato il deficiente che mette i non mi piace ai miei video, ieri ha messo non mi piace a tutti gli ultimi video, compreso Nandina che beve il latte, ce la voglio dire se sei triste no? ma sparate invece di fare l'invidioso, ad efficiente, ma poi mette non mi piace a Nandina, vabbè bravo, magna, magna, vabbè Nandina ti dispiace se mentre mangi io torno a casa, non ti dispiace che ti è stata sola, vero? oh eccomi cucciola, chi c'è lì? dai che ce l'hai compagnia, vedi? ci sono Leandro e Gastone, ciao bella! ciao